Ragazzi, molto ambizioso secondo quelli che sono i piani della Presidente Sonia Giordano. Penso che la determinazione di Sonia l'avete notata dalle sue parole ed è normale che un'imprenditrice del suo livello per spostarsi da Milano non viene qua a passarsi il tempo, è normale che vuole realizzare qualcosa di bello non soltanto in termini economici ma anche di realizzazione di un progetto sociale, di sviluppo di una città alla quale si è subito legata e per la quale subito si è instaurato un feeling particolare. Quindi al 99% si riparte dall'eccellenza ma si riparte dall'eccellenza con grandi ambizioni. Certamente l'Agragas deve partire per giocarsela per vincere. Qui è inutile che noi ci rispondiamo dietro un dito e neppure mandiamo a dire che l'Agragas sarà la squadra da battere. Saremo tra il novero delle squadre che lotterà ovviamente per la vittoria finale. Faremo di tutto per cercare di centrare l'obiettivo. Consapevole del fatto che quest'anno sarà un'eccellenza molto difficile perché squadre come il Mazzara, come la Nissa, come il Canicattì, il Profavara e la San Cataldese si sono attrezzate abbastanza bene. Speriamo che il nostro girone non mettano l'Enna perché a quel punto sarebbe veramente un campionato formidabile secondo me più forte della Serie D. A quel punto ci vuole una squadra di ottimo livello che certamente non mancherà al bravo ed esperto Ernesto Russello costruire e essere all'altezza intanto del nome di Agrigento. Di onorare la maglia e sudarla in ogni partita e in ogni allenamento e poi di cercare di raggiungere l'obiettivo di lasciare questa categoria che per la città di Agrigento ci sta stretta. Biondo e Licata hanno firmato ancora per l'Agragas. Anche Gambino potrebbe indossare ancora la maglia dell'Agragas. Io Gambino con un'altra maglia non lo vedo, sinceramente. Quindi diciamo c'è un rapporto di intenso amore lui con la maglia dell'Agragas e noi nei confronti di lui come ragazzo e come calciatore. Quindi penso che al suo ritorno dalle ferie con ovviamente la provvidenziale intervento di Ernesto Russello penso che sarà un matrimonio che basterà poco per concretizzarsi. Quindi è una persona sulla quale abbiamo puntato che ha fatto una scelta di vita l'anno scorso e quindi non penso che la rinnechi. Malgrado le tante richieste che ha perché ovviamente è ancora un giocatore ambito penso che posso anche sbilanciarmi dicendo che al 90% e a non dire di più Gambino sarà ancora il centravanti dell'Agragas. Penso proprio di sì. Ci sono tutti i presupposti perché quando due persone vogliono fare un matrimonio le condizioni ci sono. Partiamo dallo zoccolo duro dei riconfermati questo a dare dimostrazione che l'anno scorso il lavoro del tecnico non è stato da buttare via perché quando poi in un'ossatura di squadra titolare confermi 4-5 elementi capisci bene che l'anno scorso comunque è esaminato. Non è la scorsa stagione se è partito da zero c'erano 11-11 nuovi. Qui quantomeno parti da uno zoccolo duro. L'anno scorso è rinforzato non solo con elementi di categoria e di categoria superiore ma soprattutto con elementi di grande fame che sono quelli che cerca di Gaetano fame calcistica, voglia di vincere e soprattutto uomini perché in alcuni frangenti della stagione e per alcuni calciatori uomini non lo sono stati perché se lo fossero stati avremmo vinto il campionato. Quindi facendo ammenda dei nostri errori perché per prima abbiamo sbagliato noi cercheremo degli uomini veri soprattutto fuori dal campo mentre in campo e poi con la mano saggia di Ciccio di Gaetano penso che quest'anno quantomeno Agrigento Sportiva e Tifosi dell'Agra si divertiranno.